Il governo Bersani nell'orizzonte del Movimento 5 Stelle è già tramontato, ma se sorgesse un altro esecutivo all'ombra del Quirinale con nomi di alto profilo slegati dai partiti, come si comporterebbero allora gli stellati? Con la salita al colle del segretario PD ormai prossima, è uno scenario che è tempo di valutare e che potrebbe finire nel menu delle riunioni dei gruppi parlamentari in programma questo pomeriggio. Le consultazioni hanno confermato che per Bersani non esistono margini di manovra, niente fiducia e niente spedienti, tipo uscire dall'aula del Senato al momento del voto per abbassare il quorum, hanno ribadito i capigruppo Crimi e Lombardi. Mentre a Roma si sanciva lo strappo, Grillo era nella sua casa marina di Bibona, tra spiaggia e palestra. A chi lo ha avvicinato per chiedergli del destino di Bersani, riferisce il quotidiano Il Tirreno, al risposto si riciclerà per trovare qualche soldo oppure andrà a fare lavori socialmente utili. Dunque, massima distanza dagli altri partiti, l'unica opzione per i 5 Stelle è un governo a 5 stelle. Oppure no? Crimi a un certo punto ieri ha fatto sapere se Napolitano fa un altro nome e tutta un'altra storia. Poi ha precisato che intendeva tutto un altro percorso istituzionale. Ma insomma, il problema del che fare in caso di governo del Presidente è sul tavolo e per alcuni parlamentari parlarne non è affatto tabù. Comeppure potrebbero venire a galla certi malumori nei confronti della Lombardi, sottotiro per la gestione del gruppo alla Camera. Livia Michilli, Sky TG24 Livia Michilli, Sky TG24